ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video dimmi te misteri scp oggi parleremo delle scp 1326 chiamato anche il lezzicon class dell'oggetto euclid anche di questo cipino è disponibile una foto per due specie di contenimento scp 1326 deve essere contenuto in una cella di contenimento standard del sito 19 con la scala di letteratura usata esempio quotidiani o riviste tenute fuori dalla sua cella una rivista di quella scatola deve essere scasciata nella casella di contenimento del scp se non l'ho letto grazie dell'oggetto euclid perché non mi ricordo se ve l'ho detto già come per l'occasione e deve essere rimpiazzata in quanto cipo in tre settimane un membro dello staff deve essere da deve dare da mangiare alle scp portando il libro tenuto all'interno della scala di contenimento entro 30 cm dalla copertina di scp 1296 è tenuto in posizione fino accessor da attività quindi gettare la rivista in questione e ripiazzarla con un'altra dalla scatola fuori dalla cella di scp 1326 nell'eventualità che scp 1326 rilasci scp 1326 trattino 2 in quanto i falli a fallimento della normale procedure di appavvigionamento il cui sopra la cella di contenimento di scp 1326 deve essere tenuta sigillata fino a quando tutti gli esemplari ritorno dentro scp 1326 dove a questo punto la procedura di chiusura può essere evocata e le riviste assorbite durante tale evento devono essere rimpiazzata il prima possibile leggere i testi riportati dentro spcp 1326 deve essere effettuato solo tra personale di classe d o qualsiasi contenuto il tenuto sicuro utile per la fondazione deve essere scritto e raccolto in un compiuto della fondazione nel documento 1326 trattino 82 descrizione scp 1326 è un libro attualmente ornato legato in cuoio con varie parti semovibili sulla copertina frontale inclusi un quadrante circolare numerato nell'angolo in alto a sinistra un quadrante semi circolare nell'angolo in basso a destra e varie braccia meccaniche aggiunta al suo centro terminando in tutti i latini meccanizzati o lenti circolari scp 1326 assicurata da una serratura sul lato destro designata per introdurci una piccola chiave classificata come scp 1326 1 trattino 1 scp 1326 può solo essere aperto da scp 1326 trattino 1 ogni alternativo di aprire la serratura usando forcina o repliche di scp 1326 trattino 1 sono falliti il contenuto di scp 1326 sms una collezione di enciclopedica di svariati lavori articoli organizzata su diversi argomenti la natura di questi testi fa tra lavori conosciuti di autori conosciuti versioni alterati lavori noti o lavori sconosciuti riguardanti materiali riconosciuto o sconosciuto alcuni dei quali possono essere relativi a scp attualmente contenuti o meno della fondazione il contenuto di scp 1326 quando aperto può essere cambiato inserendo numeri indice tramite i quadranti sulla copertina del libro questi numeri non sembrano eseguire alcun sistema di classificazione e nessuna correlazione è stata riscontrata dai valori dell'indice e contenuti che rappresentano lista giornata dei testi ritrovati se scp 1326 viene posto un metro di un altro libro o documento scritto le braccia sulle copertine inizieranno a muoversi da sole in modo da allineare le lenti e le estremità in queste braccia con documento in questione una volta allineate le lenti emetteranno una luce blu scanalizzando il documento per un tempo approssimativo di cinque secondi quindi ritorneranno alla loro posizione originaria esami hanno confermato che quando che questo comportamento è un metodo usato da scp 1326 per acquisire nuova informazione che saranno quindi riportate come materiale leggibile sotto un apparentemente designazione causata all'indice è ancora sconosciuto il metodo con cui scp 1326 sia in grado di estrapolare questa informazione sebbene lo staff teorizzi che possa essere letteralmente senziente è anche possibile che il libro reagisca a certi simboli ripetuti ed è stato osservato scranalizzare le targhette dei membri dello staff sebbene queste scansioni sono più brevi rispetto a quale seguite sui libri o sui testi scritti è imperativo fornire nuovo materiale a scp 1326 ogni tre settimane visto che l'oggetto diventerà stile se non un tritore regolarmente vedete documento incidente i miei 326 per ulteriori dettagli se il video vi è piaciuto come se ne vi lascia un mi piace di continua a seguire la serie per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima ciao